Puntuale come sempre a gennaio, anche quest'anno, il calendario di Anteas che raccoglie un po' le iniziative fatte durante lo scorso anno dalla vostra associazione. Esatto, noi tutti gli anni ormai abbiamo preso l'abitudine di fare un nostro calendario che raffigura tutti i progetti che sono stati fatti durante l'anno. Uno è questo motivo, ma il motivo è anche quello di ringraziare tutti i nostri volontari che ci permettono di far sì che tutti i progetti vengano svolti e poterli poi divulgarli per tutti i nostri soci e fare in maniera che si avvicinino sempre di più alla nostra associazione. Quanti sono stati i progetti e quali quelli da ricordare? I nostri progetti sono stati parecchi, ne abbiamo fatti circa una ventina e sul calendario ogni pagina abbiamo messo un progetto, il più significativo. Lo vogliamo dire grazie a tanti volontari che ci hanno aiutato. Noi sul calendario dobbiamo dire Mauro Bettati che è uno dei nostri che ci ha aiutato parecchio, la Vettori Floriana che anche lei è stata un aiuto fortissimo. Qual è il prossimo progetto in programma? Il prossimo progetto è sicuramente un progetto che abbiamo presentato con il nostro finanziato col 5 per 1000 che si basa sull'intergenerazionalità. L'intergenerazionalità fra anziani e giovani. Per cui questo sarà un progetto che vedremo nel prossimo. Abbiamo iniziato la prima fase di presentazione e faremo nel seguito tutta la fase operativa. Per chi volesse avere il calendario dove può trovarlo? Sì, noi abbiamo il calendario a disposizione presso il centro anziani di Fossitermi che noi siamo lì presenti tutti i giorni dalle 14 alle 18 tutti i giorni oppure presso la nostra sede di via Taviani nei locali della Cisola dove ci siamo sempre.